Siamo al Circolo degli Artisti, presso la casa di Dante, per ascoltare un reading di poesie fatto da Luciano Fusi. Le poesie sono tratte dal volume antologico di Franco Manescalchi La neve di maggio. Franco Manescalchi è poeta, operatore culturale, pubblicista, giornalista e critico letterario quant'altro mai. Ecco, questo titolo, La neve di maggio, come mai? La neve di maggio è un titolo che ha due significati. Il mio lavoro è legato al mondo agropastorale, contadino, dove i mutamenti di tempo, dove le nevicate a maggio erano qualcosa di particolarmente pericoloso, potevano distruggere i raccolti, eccetera. Dunque c'è questo mondo fatto di terra, di... Però c'è anche il mio essere cittadino, il mio appartenere alla città, alla politica, e di conseguenza a maggio possono accadere cose molto particolari, molto improvvise. Ad esempio, che so io, il maggio francese, il maggio appunto dell'Ottocento in Francia, cioè praticamente è la doppia componente mia, quella di essere uomo di terra e uomo di lotta. Benissimo. Che significa essere poeta in una società come quella di oggi, estremamente commercializzata, estremamente informatizzata, in cui la comunicazione è così veloce, mentre la poesia ha bisogno di tempi lenti? Diciamo che il poeta, l'artista, non corre alla velocità della modernità, alla velocità della comunicazione, alla velocità dell'informatica. L'artista ha un suo percorso lento, perché soltanto nella lentezza, nell'attenzione a ciò che accade interiormente, si possono cogliere le immagini vere dell'essere uomo e anche i messaggi veri da poter trasmettere. La velocità, diciamo, dell'informatica del mondo d'oggi è una velocità che in realtà cancella l'essere uomo e il suo messaggio. Firenze. Firenze è stato il palcoscenico della tua esperienza biografica, ma anche della tua esperienza culturale, sia come artista, sia come operatore culturale, appunto. Ecco, che differenza c'è fra la Firenze degli anni 50-60, quando tu hai cominciato a operare attivamente nel campo della poesia, e la Firenze di oggi? Diciamo, il mio primo libro di poesia si chiama Città e relazione, del 1960, ed ha in copertina un'immagine di Firenze. Io in quegli anni, avevo 18-20 anni, avevo preso come impegno di conoscere dall'interno Firenze. Avevo una sorta di nomadismo nelle chiese, nei musei. Toccare con mano Firenze, rovesciare a guanto quello che è un'immagine e vederla dal vero. Dunque, in quegli anni, Firenze era molto più piccola di oggi, piccola nel senso della cultura, dell'università, dei gruppi culturali. Tutto si svolgeva tra Piazza San Marco e Piazza del Duomo, si potrebbe dire. Via Martelli ci trovavi gli artisti, filosofi e così via. Dunque, la formazione era dal vivo. E così, dal vivo, io ho potuto vivere e conoscere, ripeto, gli artisti e tutto quello che era la città vera. Poi, passando gli anni, dopo gli anni Sessanta, diciamo che Firenze, la cultura, si è dilatata, si è allargata, si è anche, come dire, andata oltre la municipalità, è divenuta metropolitana, e sono accaduti intrecci che via via poi hanno perduto, dilatandosi nel tempo, hanno perduto la consistenza. Per cui oggi c'è, diciamo, un movimento culturale amplissimo, ma che non ha spessore, non è tridimensionale, non si vede, e di conseguenza bisogna ripartire appunto dal singolo uomo, dal singolo artista, per ricostruire una città a misura d'uomo. Ci sono dei nomi che tu considereresti maestri? Certamente, come poeta dici? Come poeta ci sono poeti che sono maestri di scrittura e di vita, voglio dire Giuseppe Ungaretti, Vincenzo Cardarelli, e ancora altri, magari, minori che ora non sto a dire, però i maestri per me sono quei poeti i quali hanno espresso sulle loro pagine in modo essenziale, necessario, fulmino quasi potrebbe dire, ciò che l'uomo dentro di sé ha di importante e che non può non dire e che non può non scrivere. Molti altri invece possono scrivere tante cose, dipingere tante cose, avere tanti linguaggi, ma sono cose che non hanno una necessità di fondo, possono anche essere non dette, possono anche essere non scritte, senza alcun danno a chi ama la cultura. Quindi poesia e vita vengono a essere un binomio incendibile nella tua poetica? Poesia e vita è certamente un binomio essenziale. La vita senza poesia non è vita, la vita senza poesia, ma nemmeno nel mondo animale manca un sentimento delle cose. Se noi abbiamo cominciato a apprendere nel mondo animale, ci rendiamo conto che c'è nel loro muovere, nel loro vivere, c'è un sentimento che si potrebbe dire relativamente poetico. Mentre la stessa cosa nella poesia senza vita è una retorica. Oggi ad esempio, nel tempo di oggi, c'è tantissima poesia, tantissima arte che non ha a che fare con la vita, è soltanto forma astratta, del tutto inutile, anche se perfetta. Dei nomi di compagni di viaggio? I compagni di viaggio sono alcuni importanti, Giuseppe Zagarrio, Gino Gerola, Giuseppe Favati, Luca Rosi, e anche te, Giuseppe Paltassarre, sei un compagno di viaggio importante. Sono 30 anni che viaggiamo insieme. Viaggiare senza compagni è essere come su una cometa dove non c'è vita, sei isolato. I compagni che ci accompagnano sono parte di noi stessi e ci rendono, e ci danno un'identità piena e viva. Bene, grazie Franco Maniscalchi per queste parole che ci rincuorano riguardo al futuro anche della poesia e anche dell'essere umano, perché tu unisci insieme ciò che è l'espressione artistica con ciò che è l'espressione etica dell'uomo. E in questa giornata, in cui fra l'altro è il tuo compleanno, ti faccio tanti auguri, tanti tanti auguri, Franco. E ora sentiamo anche una delle poesie contenute in questo bellissimo volume antologico, La Neve di Maggio, letta da Luciano Fussi.